Stava lavorando su una pressa ed è stato investito da un tubo metallico che gli ha procurato lesioni gravissime. Immediato l'intervento dei sanitari e dell'elisoccorso, ma quando è arrivato all'ospedale di Chieti non c'era più nulla da fare. Era un precario Roberto Caporale, 47 anni di Lanciano, ennesima vittima del lavoro in Abruzzo. La procura ha disposto il sequestro del macchinario e ordinato l'autopsia. Necessario capire se alla base si sia stato un errore umano o un malfunzionamento della macchina operatrice. L'azienda per la quale era Operaio e la Proma, fabbrica dell'indotto automotive, nella zona industriale della Val di Sangro. Sul posto i carabinieri e l'ispettorato del lavoro per le necessarie indagini. Intanto Fion CGL di Chieti e Fim Cisela, Abruzzo e Molise hanno proclamato due ore di sciopero nello stabilimento interessato all'incidente, che produce componenti meccaniche per automobili e furgoni. Angoscia, sgomento e rabbia sono i sentimenti che stiamo vivendo e che ci spingono ad alzare ancora di più il livello di impegno contro questa vergogna. Hanno scritto in un volantino le organizzazioni sindacali, stigmatizzando un ennesimo incidente mortale. Nei prossimi giorni faremo richiesta alla direzione di stabilimento per un incontro e analizzare in uno specifico cosa ha portato all'incidente mortale.